Il messaggio di Vladimir Putin quando parla a Xi Jinping del libro di Cerniceschi, che fare, che vuole regalare, potrebbe essere un messaggio molto più sottile. Potrebbe essere cosa stai cercando di fare? Stai cercando di scappare dalla nostra relazione indissolubile? Cosa stai cercando di fare, puttanella? Torna indietro, perché tu sai quali sono le conseguenze della sua fuitina.